Può un non vedente godersi uno scatto fotografico? Sono stato a vedere la mostra dedicata a Dorotea Lang, che è in esposizione a Torino da camera. In totale ci sono 200 scatti della fotografa statuditense che raccontano due progetti in particolare che lei ha fatto nell'arco della sua vita. Però se andate sul blog joeleurso.com proverete l'articolo che parla proprio di questo. Però in questo video vi voglio parlare di un aspetto di inclusione che c'è in questa mostra. Ovvero in ogni sala dell'esposizione c'è uno scatto significativo che viene anche reso usufruibile per le persone non vedenti o per gli ipovedenti. La fotografia viene riprodotta in un pannello e i contorni sono in rilievo. Così le persone possono toccarla e immaginare quello che viene ritratto appunto nello scatto. Ma non solo perché c'è anche un QR code che rimanda ad una pagina su Vimeo dove ci sono una serie di video che descrivono appunto lo scatto, la fotografia. Un modo interessante per permettere a tutti quanti di godere della bellezza.